Uomini e donne gossip Sara Affifella, Nicola ha una nuova fidanzata Uomini e donne gossip Sara Affifella, chi è la nuova fidanzata di Nicola Panico di Temptation Islam mentre Sara Affifella sta cercando l'anima gemella uomini e donne, Nicola Panico sta frequentando un'altra ragazza A farlo sapere il sito di Isa e Gia, che ha ricevuto la segnalazione di una persona, che abita nello stesso paese dell'ex protagonista di Temptation Islam Nicola sta frequentando una compa esatta, di professione ballerina Al momento il nome e le car restano tab secret, ma il calciatore ha confermato il gossip attraverso il suo profilo Instagram in particolare l'ex della nuova tronista di Maria De Filippi ha ribadito, che ormai la relazione con la modella è morta e sepolta e che anche lui è riuscito ad andare avanti In molti gli avete scritto che sono un ipocrita, che sono un furbo e ci ci credo che una persona avrà tutto il diritto di rifarsi una vita dopo due lunghissimi mesi Di errori ne ho fatti tanti, ma mai come questo periodo mi sento a posto con l'amicoscienza ha fatto sapere Nicola Panico in una storia di Instagram Lo sportivo non ha aggiunto dettagli sulla sua nuova storia d'amore Forse vuole attendere ancora un po' prima di uscire allo scoperto Come reagirà Sara alla notizia? Solo qualche settimana fa Nicola ha apertamente criticato i corteggiatori dell'ex fidanzata a uomini e donne Un gesto, che per molti provava l'interesse ancora forte del ragazzo nei confronti della modella e studentessa Alla fine, per, Nicola ha preferito andare avanti e cercare un nuovo amore Perché Sara e Nicola di Temptation Island si sono lasciati Sara e Nicola si sono lasciati a Temptation Island La napoletana non ha apprezzato il comportamento di Panico con la tentatrice Antonella Fiordelisi Dopo la fine del programma i due sono tornati insieme e sono andati a convivere Ma poco dopo la fifella ha capito di non amare più il fidanzato e l'ha mollato Grazie 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 Grazie